La bufera di neve e le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiato alcuni tetti della stazione scistica di Campo Felice nel comune di Rocca di Cambio. Il vento ha smantellato i tetti della scuola sci, le aquile e del ristorante Capannina. La stazione scistica è chiusa proprio per le condizioni meteo, ma questa mattina erano presenti alcune persone e un ragazzo è rimasto ferito al volto colpito da alcuni pezzi di tetto, una ferita che sembrerebbe lieve oltre al grande spavento come si evince da un video ripreso e pubblicato da uno sciatore sul suo profilo Facebook. Una situazione di grande apprezzione, quella che si è generata dunque questa mattina nella stazione scistica di Campo Felice, brutto epilogo di una mattinata e di una giornata di maltempo che sta creando disagi in quota, dove le immagini di una baita dietro la nota Capannina nella frazione lucolana di Casa Maina fanno intendere quanto forti siano le raffiche di vento sull'altopiano delle Rocche. Una tromba d'aria che non sta risparmiando nemmeno l'altopiano di Campo Imperatore e la città dell'Aquila, dove osservati speciali sono soprattutto alberi e cantieri della ricostruzione. Sono questi i primi pericoli, punti da cui occorre stare assolutamente lontani, almeno fino a quando la tromba d'aria che sta interessando tutta la provincia non cesserà. L'appello ad adottare la massima attenzione in prossimità di alberi, cantieri e in generale abitazioni che presentino qualche criticità sono i tecnici della protezione civile dell'Aquila. Raffiche di vento che vanno dai 40 agli 80 km orari e che stanno avvolgendo la città, le frazioni e il comprensorio in un turbine di alberi sradicati, lamiere trascinate in strada, tetti e coperture di capannoni di velti. Persino alcune coperture scolastiche sono oggetto di intervento da parte dei vigili del fuoco a Sulmone ad Avezzano. Ad Avezzano interrotte alcune strade, non solo per alberi caduti, ma anche per guaine precipitate dai tetti. A Magliano dei Marzi un cavo dell'energia elettrica è caduto sulla carreggiata, mentre sull'autostrada 25 danni alla copertura di un autogrill nella Marsica. Sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco presa dunque d'assalto sin dalle prime ore del mattino, dalle telefonate dei cittadini per avere aiuto, decine gli interventi delle squadre con qualche difficoltà a raggiungere tutti i luoghi dell'emergenza.